Sono arrivati! Va bene, ancora qua un metro e spieghi l'acqua Sì, ancora qua due c'è l'acqua Poi dire che c'è l'acqua Dicevuto, ma tu ti senti pianissimo, ti chiede, invece a Michele lo sento bene e forte No, no, è il problema suo È un problema tuo, in quella di Mirko si sente buona, a chitaria si sente buona, a pace tu, piano 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 Sarà il microfono da spalla Allora, per me puoi spegnere il copolo Non devi dire se devo spegnere Spegni Sì, sì, perché c'era il discorso di quella via che avevamo detto prima Via Capuana erano curate delle segnalazioni Andiamo a vedere in questa via Capuana, va bene? Ci sentiamo dopo Bosco, arrivederci Arrivederci Ciao grazie la notte rilasco la notte Sì, è vero, è vero. Grazie a tutti Grazie a tutti